ciao a tutti io sono andrea e gestisco il canale youtube white ghost oggi volevo parlarvi di sketchup il software di render in 3d gratuito di google ve ne voglio parlare in un modo un po' diverso dagli altri degli altri tutorial su sketchup che potete trovare in rete in italiano anche soprattutto perché mi rendo conto che alcuni di voi non hanno nel tempo nella voglia di mettersi lì a imparare tutte le virgole che concernono questo questo software in particolare ma magari hanno bisogno soltanto di avere quelle quattro nozioni base per poter disegnare velocemente quello che si ha in mente e poterlo poi realizzare logicamente quello che vi dirò quindi in questo video sono le nozioni stra base che più base di così non si può però grazie alle quali riuscirete tranquillamente a disegnare praticamente quel qualsiasi cosa vi venga a mente poi logicamente se vorrete approfondire lascio ad altri che hanno più esperienza di me su questo ed altri software per andare a scavare nei meandri delle possibilità di questo di questo software appunto comunque partiamo allora sostanzialmente cosa succede noi abbiamo tre assi x e z nei quali possiamo disegnare i nostri solidi allora nostro solido il più comune di tutti può essere semplicemente un quadrato per cui tasto sinistro sul rettangolo dopodiché si prende in un angolo angolo sin tasto sinistro del mouse e si allarga dopodiché si rischiaccia ed ecco il nostro rettangolo come per il rettangolo stessa cosa per il cerchio si disegna si clicca una volta per il centro del cerchio dopodiché si tira col mouse fino a raggiungere la grandezza desiderata la grandezza desiderata sostanzialmente la vedete in basso a destra prendiamo ad esempio appunto il cerchio come vedete qua in basso a destra vi ha segnato sketchup il raggio di questo cerchio la cosa importante di sketchup da capire oltre aver disegnato le forme in 2d come abbiamo visto prima è quella dell'utilizzo delle linee guida lo strumento di misura qua in alto vi permette di disegnare appunto delle linee all'interno del disegno da utilizzare poi come appunto guida per comporre il vostro disegno ad esempio passiamo sul pratico volete disegnare un asse di 100 mm per 60 ok vi posizionate vicino ad uno degli assi e vedete che il puntatore gli si aggancia cliccate col sinistro e adesso appare una linea che muovendo il mouse potete muovere parallelamente all'asse che avete disegnato abbiamo detto 100 mm per 60 vuol dire che una la disegneremo ad esempio a 100 mm in basso a destra vedete dove c'è scritto lunghezza sketchup vi dà la possibilità digitando sul tazzerino numerico della vostra tastiera di decidere a quanto dall'asse verde venga disegnata questa guida noi la disegneremo abbiamo detto a 100 mm scrivete 100 nella tastiera e battete invio ci avviciniamo un po con la rotella del mouse per ingrandire dopodiché 100 per 60 quindi prendiamo l'altro asse clicchiamo e muovendoci sempre perpendicolarmente all'asse che abbiamo scelto parallelamente all'asse che abbiamo scelto scusate digitiamo sulla tastiera 60 e invio questo vuol dire che questa parte qui avrà una lunghezza di 100 mm e una larghezza di 60 potete andare a selezionare il rettangolo posizionarvi in uno degli incroci degli assi e disegnare appunto il rettangolo in questione per un discorso di pulizia del disegno cancello un secondo le linee guida e ci avviciniamo il nostro la nostra asse adesso un asse piatta 2d per farla diventare un asse 3d andiamo a conoscere lo strumento più importante di sketch up che è spingitira lo clicchiamo spingitira non fa altro che rendere 3d le superfici selezionate per cui se noi ci spostiamo col mouse soltanto sopra una superficie lei viene evidenziata cliccando col sinistro e spostando il mouse noi creiamo un solido la nostra asse di quanti millimetri è è un asse ad esempio di 20 mm quindi anche qui digitiamo 20 sulla tastiera e invio adesso abbiamo un asse che è lunga 100 larga 60 e alta 20 siccome questa asse andrà a essere montata insieme a tutto il resto del vostro disegno e vi consiglio sempre quando create un elemento di selezionarlo col tasso sinistro del mouse nella sua interezza tasto destro crea gruppo questo perché vi consentirà di selezionarlo tutto in blocco e non di selezionare una faccia l'altra una riga più che l'altra perché altrimenti diventerà un pacciugo se volete poi lavorare sul pezzo come era prima basta cliccare due volte col sinistro e voi a questo punto lavorerete soltanto sul pezzo interno per capirci se vicino avrete un altro solido ad esempio un cilindro per cui selezionate il cerchio selezionate spingitira e create ad esempio un cilindro anche questo lo raggruppate adesso a questo punto come vedete sono due elementi distinti e raggruppati uno all'altro se noi vogliamo lavorare solo sul rettangolo clicchiamo due volte vedete che il cilindro diventa grigio chiaro per cui potete lavorare sulle varie facce separate o sulle assi che formano l'asse in questione mentre qui lavorate sul pezzo intero continuiamo con le cose pratiche facciamo conto che voi vogliate costruire una scatola fatta con sei assi di questo tipo allora come in gran parte dei programmi potete fare selezionare il selezionare l'elemento modifica copia o ctrl c e poi potete fare o ctrl v per cui come in questo caso vi ritroverete il pezzo già pronto per essere posizionato oppure potete fare modifica incolla sul posto a questo punto il pezzo è stato messo esattamente sopra all'altro torniamo un attimo indietro allora ctrl c e ctrl v abbiamo detto qui abbiamo l'altro pezzo lo posiamo lo posizioniamo qui logicamente andrà posizionato per fare una scatola verticalmente rispetto a questo per cui andrà ruotato uno degli altri strumenti principali è appunto lo strumento ruota per cui lo selezioniamo e come vedete lo strumento ruota altro non è anche un goniometro per cui posizionato su questa faccia vi permetterà di girare il pezzo rispetto a quest'asse posizionato su quest'altra vedete cambia colore prende il colore perpendicolare all'asse di riferimento per cui verrà ruotato su questa faccia mentre ad esempio posizionandoci sulla faccia dell'altro elemento sarà perpendicolare all'asse rossa adesso noi lo vogliamo ruotare ad esempio per metterlo in testa questo pezzo per cui andrà ruotato rispetto a quest'asse allora vi posizionate su una linea cliccate una volta vi allontanate cliccate un'altra dopodiché come vedete ruotando il mouse e ricliccando lo avete semplicemente girato selezioniamo un nuovo strumento che è lo strumento sposta andiamo a prendere uno degli angoli del nostro pezzo e lo andiamo a posizionare avvicinandoci un po' esattamente sull'angolo dell'altro pezzo essendo tutto magnetico vi risulterà molto facile farlo cosa succede ora ricopiamo di nuovo con ctrl c ctrl v questo pezzo e andiamo a conoscere un altro strumento lo strumento orbita lo strumento orbita vi serve perché tenendo schiacciando il tazzo sinistro potete muovervi e vedere la vostra creazione sotto vari punti di vista e questo vi serve vi serve perché ad esempio adesso selezionando lo strumento sposta possiamo andare a posizionare il rettangolo che abbiamo appena creato esattamente qui quindi cosa ci manca ci manca ad esempio questo per chiudere la famosa scatola contro c contro v andiamo a selezionare quest'angolo e lo andiamo a posizionare esattamente qui strumento orbita possiamo vedere che il nostro la nostra scatola sta prendendo forma allora adesso ne manca ancora un asse qui è un asse dall'altra parte prendiamo una delle assi contro c contro v dobbiamo girarla in questo senso quindi andiamo a prendere come prima lo strumento ruota ci posizioniamo su una superficie qualsiasi che abbia il senso di rotazione che interessa a noi quindi in questo caso l'asse blu clic una volta clic seconda volta dopodiché girando vedete che gira il pezzo logicamente il pezzo io questo l'ho dato per scontato ma magari sarebbe meglio non farlo gira assolutamente con perno nel primo clic del mouse per cui se voi volete far girare questo pezzo rispetto a questo punto prendendo lo strumento ruota e posizionandovi su questo punto qui è un secondo punto come vedete ruota in quel modo l'utilità potrebbe essere ad esempio l'apertura di uno sportello quindi adesso cosa manca manca ancora questa parte per cui contro c contro v con il pezzo selezionato e la andiamo a posizionare qui per cui la nostra scatola capisco che è una scatola orrenda ma è belle che fatta naturalmente tutti questi pezzi sono stati raggruppati quindi lavorabili singolarmente io vi consiglio di fare più gruppi di lavorare più gruppi come lavorare con cartelle su windows per capirci per cui una volta che la scatola è stata completata se va se poi andate a lavorare su un progetto più complesso potete selezionarla tutta e raggrupparla interamente per cui la scatola adesso potrà essere mossa lungo tutto il vostro progetto senza perdervi pezzi in giro se volete sgruppare basta fare tasto destro esplodi lui a questo punto vi divide tutto come era prima allora adesso queste sono le cose proprio base l'altra cosa interessante che voi un oggetto potete lavorarlo entriamo dentro questo questo quadrato doppio clic sul sinistro se voi disegnate poniamo conto che questa parte qui abbia bisogno di un buco qua al centro per fare un buco prendete ad esempio lo strumento cerchio vi posizionate in un punto che volete voi o ancora meglio guardate prendiamo lo strumento misura e vi faccio vedere una cosa se voi vi posizionate sul bordo di del rettangolo e cliccate una volta si forma la famosa linea guida di prima la linea guida se voi vi posizionate sulla parte sul sul lato lungo dell'asse vedete che andando avanti a un certo punto tac si cambia forma al cursore e diventa azzurro quello il centro del lato per cui se fate clic col sinistro a questo punto avete diviso l'asse precisamente a metà stessa cosa potete fare per questo asse per cui tac questo il centro per cui questo il centro del vostro asse quando avvicinate lo strumento misura vedete che diventa un x rossa che vi indica che siete esattamente su quel punto per cui se il vostro foro lo volete fare ad esempio al centro il posizionate di clicco una volta dopodiché allargate il cerchio mettiamo quello volete fare con raggio 20 mm digitate 20 la tastiera invio questo è il vostro cerchio abbiamo detto che deve essere un buco per cui strumento di nuovo spingi tira e come vedete quando vi posizionate sulla faccia incriminata si evidenzia per cui clic una volta col sinistro potete tirare fuori o come abbiamo detto vogliamo un buco potete spingere in dentro come fate a creare un buco posizionate il vostro cursore sul bordo di dietro della tavola clic col sinistro ed ecco che sketch up ha creato esattamente un buco dove voi avete disegnato il cerchio di prima cliccando esternamente alla selezione tornate alla vostra scatola siccome gli assi li abbiamo disegnati all'interno all'interno della selezione dell'asse dell'asse di legno per capirci se volete cancellarli dovete entrare all'interno della selezione selezionarli e cancellarli la manina qua a fianco lo strumento orbita serve unicamente a spostare il disegno anche questo molto molto utile sulle cose base direi che ci siamo quasi tutte le altre cose sono cose che nel senso vi servono ma le scoprirete andando avanti e sono molto facili ad esempio lo strumento scala se voi selezionate la vostra asse e lo strumento scala come vedete viene evidenziato da vari punti che voi potete selezionare e trascinare con il mouse per ingrandire appunto o scalare se voi ad esempio prendete un angolo il pezzo che avete appena creato tutti i punti sono magnetici quindi riuscite tranquillamente a lavorare con precisione lo strumento quota c'è poco da dire selezionate un angolo selezionate l'altro angolo tirate in qua e come vedete c'è la famosa 100 mm dell'asse per 60 di altezza per cui riuscite a dare anche un senso pratico a quello che fate dopodiché ci sono vari strumenti per disegnare una miriade di cose varie visualizzazioni una cosa interessante ancora che vi dico e poi vi lascio è lo strumento riempi il secchiello per cui grazie al quale vi apre una una paletta di colori di materiali con i quali potete andare a riempire le varie forme che avete fatto ad esempio se seleziono rosso e vado su quest'asse clicco ed ecco che l'asse diventa rossa oppure posso selezionare un legno selezionare qui ed ecco che questa assume la texture che voi avete selezionato logicamente potete importare le texture potete crearvene di vostre potete fare sostanzialmente un po quello che volete la cosa utile di sketchup rispetto a un disegno manuale secondo me è che voi avete un sacco di possibilità cioè ad esempio selezionando il pezzo potete andare su modifica nascondi e nasconderlo senza starlo a cancellare per vedere all'interno cosa succede dopodiché modifica mostra ultimo o tutte e ritornare alla visuale precedente ecco questo è un progetto che avevo disegnato io un po di tempo fa sostanzialmente come vedete in questo caso che sulla pratica poi si ragiona abbastanza meglio come vedete gli oggetti i vari oggetti sono raggruppati e questo facilita il movimento il can la modifica dei colori tutto rispetto a avere tutto completamente separato ora faccio una cosa ad esempio così e faccio esplodi che il contrario di che il contrario sostanzialmente di crea gruppo allora a questo punto che io ho esploso il mio disegno come vedete io non seleziono più la tavola ma seleziono i vari vari elementi questo può servire ma in generale meno a me serve serve quando vado a ritoccare un elemento particolare però è difficile che io debba spostare solo il sopra di questa tavola o cancellarlo ad esempio ok vi può servire per vedere cosa all'interno di una tavola no serve per fare determinate cose però in generale io vi consiglio di se lavorate su progetti di questo tipo di comunque raggruppare il più possibile perché vi facilita il lavoro un'altra cosa che vi faccio notare è questa che è la navigatrice questo qui è un disegno fatto su sketchup scaricabile gratuitamente in internet per cui lo trovate dopodiché lo rimodellate come preferite voi e lo mettete all'interno del vostro progetto se non avete voglia di disegnarlo da voi come vedete una volta utilizzato sketchup la cosa molto facile divertente e interessante perché vi permette ad esempio una volta selezionato un pezzo se andate su modifica nascondi di nasconderlo e vedere al suo interno quello che c'è per cui potete avvicinarvi dare un'occhiata potete allontanarvi potete nascondere quest'altro pezzo e magari anche questo e vederne la sezione da un lato per cui sostanzialmente è veramente utile sketchup almeno per avervi per avere un'idea generale di quello che state andate a fare per adesso questo è tutto secondo me questi sono gli strumenti base con cui riuscite a lavorare tranquillamente con sketchup e come vedete in dieci minuti avete già imparato sostanzialmente non scherzo il 70 per cento 80 per cento delle possibilità di questo di questo programmino ci vediamo al prossimo video schiacciate mi piace sul canale e ancora ciao 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 ciao